il sesto ho fatto un po' con il sesto il passimo non fai il 250 è partita la seconda serie 4x4 amatori uomini i termi Milano-Roma-Bordinoni e ancora Roma in questa seconda serie l'ex di Milano che cambia con Pistillo Tiziano Crippa in prima posizione poi i termi l'ex termico Leonardo De Angelis che riceve il testimone Aiz Milano-Aiz Eterni tempo da battere 4-0-1-80 dei vincitori della prima serie con il 107 l'ex Arezzo e intanto cambia per il terzo frazionista l'ex Milano con Angelo Mauri ed ecco la seconda frazione De Angelis per Termi che cambia con Bruno Canigani 3-4-0-1-80 il tempo del vincitore della prima serie l'ex Arezzo di Massini Taras Taras Rodionna ed ecco l'ultimo frazionista che riceve dall'ex Milano Stefano Pozzi, l'ultimo frazionista della Saffetta Milanese dell'Atletica Biasoro mentre adesso il cambio per l'Aiz Eterni Ismaele che riceve il testimone l'Israele a lei è deciso, via deciso e poi con il 333 Pordenone Roberto Modetti l'ultimo frazionista e intanto è Agnoli che consegna il testimone per la squadra L'Aiz Roma entra all'arrivo il 3-59-44 quindi migliore del 4-0-1-80 della prima frazione quindi l'Aiz Milano che si aggiudica la 4 per 400 al netto ovviamente del giudizio dei cambi delle giurie mentre in seconda posizione è l'Aiz Eterni è colpaggio in seconda serie dell'Aiz Milano con il ribattito